Il nostro lavoro qui è inutile. Il ragazzo ha tanti altri angeli fra gli umani che si offrono di proteggerlo. Quindi... Quindi... Quindi io non mi arrendo! E poi, ho bisogno di lavorare, di accumulare ancora contributi prima di andare definitivamente in pensione! Andiamo. Siamo stati uomini anche noi. Conosciamo l'importanza di cadere, di rialzarsi, di rischiare. E sappiamo quando è il momento di lasciare. Per noi è questo il momento. Andiamo. Andiamo! Andiamo! Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa. E che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la forza. C'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta. Ma il mondo da qui sembra soltanto una foto, la segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi. E niente. Noi non faremo come l'altra gente. Questi sono e resteranno per sempre. I migliori anni della nostra vita. I migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è finita. I migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è finita. Stringimi forte che nessuna notte è finita. Stringimi forte che nessuna notte è finita. Penso che è stupendo restare al buio abbracciati e muti. Come fuggiri dopo l'incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti. E che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. Stringimi forte che nessuna notte è finita. I migliori anni della nostra vita. I migliori anni della nostra vita. La nostra vita. La nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è finita. La nostra vita. I migliori anni della nostra vita. I migliori anni della nostra vita. Grazie a tutti.